Sono qui al BNL Italy Major Premier Paddle, i due atleti del settore tecnico nazionale di padel Alessandro Stella e Giovanni Manducca e i due atleti regionali di padel Moscuzza Gianmarco e Mattia Faseli. Qual è stata la partita più difficile che poi vi ha regalato grandi emozioni? La nostra partita più difficile affrontata in questo momento finora è stata a FIP Promises di Novara dove abbiamo battuto al terzo set una delle coppie più forti spagnole, Under 14. È stata una battaglia molto dura, ricca di emozioni, dove ci siamo divertiti e abbiamo appreso qualcosa di molto importante. Sì, anche per me è stata un'emozione molto grande e soprattutto nell'arco della partita sono successe molte cose che mi hanno fatto capire meglio come funziona questo sport. La partita più difficile per me è Giovanni Manducca è stata al FIP Promises in Olanda, in Doven, che c'è una realtà di un gran secondo posto. È stata una partita molto combattuta e ricca di emozioni. sì, è stata una partita fantastica, piena di bei punti e niente, è piena di funzioni. Quale atleta è o è stato per voi un punto di riferimento o un modello da seguire? Il mio modello da seguire, poi faccio molto le partite, è Agustin Tappi. Per me è Martindinenno, per il carisma che mette durante le partite e per la voglia di vincere che è? Per me è Agustin Tappi. Per me è Martindinenno, per il suo modo di giocare con pochi errori. Come è cominciata la vostra passione per il padel? La mia passione per il padel è cominciata poco dopo la pandemia e mio papà andava a giocare spesso a padel e io andando con lui ho iniziato a toccare la prima racchetta e da lì è nato il mio amore. La mia passione per il padel è nata grazie ai miei genitori. Loro andavano a giocare spesso nei club nella mia città e mi incominciavo a innamorare di questo sport. La mia passione è cominciata quando mio padre ha aperto un circolo di padel e io prima giocavo a calcio. Ho iniziato a giocare a padel e mi è piaciuto da subito questo sport. Io ero un'ex bernista e dopo ho trovato il padel mi sono subito innamorato. Loro andavano a giocare spesso. Loro andavano a giocare spesso. Lorenzo, il mio palito. yeah Eh